a tutti amici e benvenuti alla bianco auto oggi voglio presentare questa fantastica volkswagen golf gt 245 cavalli performance cambio automatico dsg a 7 marce nel colore grigio indio metallizzato fari full led ruote in lega sensori parcheggiati dietro vettura veramente super sportiva dell'anno 2018 con solo 47 mila chilometri guardate che bella spettacolare i vetri posteriore oscurati guardate che bella super la macchina veramente al top guardate grigio indio metallizzato macchina che spettacolare allora andiamo a vedere gli interni classico scozzese vedete spettacolo dispositivo carico passante fare fu led con l'indicatore di direzione dinamico macchina pari al nuovo andiamo a vedere gli accessori interni ed eccoci schermo digitale cruise control palette al volante fare automatici poi abbiamo sensori parcheggio avanti e dietro clima automatico navigatore app connect bluetooth clima automatico se ti viene riscaldato questa vettura noi la consegniamo con 36 mesi di garanzia col tagliando fatto olio e tutti i filtri con doppie chiavi tappetini in gomma lucidatura esterna e sanificazione interna questa volkswagen golf gt 245 performance cambio automatico dsg a 7 marce 36 mesi di garanzia questa vettura venite a vederla e provarla da bianco auto ciao a tutti alla prossima prossima